Buongiorno a tutti, eccoci qua per la pillola di oggi. Oggi parliamo di biografie. Chi mi conosce sa che io amo particolarmente le biografie di personaggi famosi, pittori, cantanti, musicisti e quant'altro, perché mi piace scoprire come sono arrivati in qualche modo al successo, che strada hanno seguito, quali sono state le difficoltà. Oggi parliamo di Giovanni Allevi, la musica in testa. Giovanni Allevi, per chi non lo conoscesse, è un grandissimo pianista italiano, molto bravo, non bravissimo, nel senso per me ce ne sono altri ancora più bravi, però comunque apprezzo, o perlomeno ha apprezzato tanto la sua umiltà e il suo modo di vivere. In questo libro lui racconta tanti aneddoti, tante curiosità, ci svela il dietro le quinte della sua carriera, come è nato artisticamente, come si è evoluto, come è cresciuto. Cercate questo libro, se amate le biografie, se amate la musica e se amate Giovanni Allevi. Noi ci vediamo domani mattina per un'altra pillola, rubo un secondo, tanto Giovanni non si arrabbierà sicuramente, per invitarvi oggi pomeriggio alle 17 al Festival delle Lettrature dell'Adriatico, io e Arturo Bernava presenteremo il libro di Filomena Grasso ovunque andrai, edizioni Il Viandante. Non mancate alle 17, scusa Giovanni, a domani ragazzi, ciao! Ciao!